La proposta di nuova legge elettorale regionale è stata approvata a maggioranza in Commissione Statuto. Ha ottenuto il sì di Smacchi per il Partito Democratico e di Buconi del Partito Socialista, mentre Stufara di Rifondazione Comunista ha votato no. Il testo licenziato è costituito dal pacchetto emendativo proposto dal consigliere Smacchi stesso, che modifica la normativa vigente regionale e nazionale. Nella riunione erano assenti i rappresentanti dei gruppi di opposizione, Nevi di Forza Italia, Mantovani misto nel nuovo centrodestra, Zaffini Fratelli d'Italia, Monacelli Udc e Goracci gruppo misto comunista Umbro. Tutti questi avevano già abbandonato dal 14 gennaio scorso i lavori della Commissione per protesta contro le chiusure della maggioranza, assente oggi anche Brutti dell'Italia dei Valori. L'atto andrà in aula il 16 e 17 febbraio prossimi. Questi i punti centrali della proposta. Si stabilisce che l'elezione del Presidente e dei consiglieri avvenga in un turno unico sulla base di un collegio pure unico. Non è ammesso il cosiddetto voto disgiunto. Per la coalizione che ha conseguito il maggior numero di voti si prevede un massimo di 12 seggi, con la garanzia minima di 8 seggi per le liste o coalizioni perdenti. Per quanto riguarda il premio di maggioranza ha volito il cosiddetto listino. Si stabilisce che al partito che ottiene il risultato più alto della coalizione vincente siano assegnati in base al risultato raggiunto fino a un massimo di 10 seggi. Gli aggiuntivi, due, sono messi a disposizione delle altre liste della coalizione a condizione che conseguano un risultato elettorale che superi la soglia minima fissata al 2,5% sul totale dei voti validi espressi, sia anche alla doppia preferenza di genere. Si possono dare fino a un massimo di due preferenze purché di genere diverso. Ciascun genere dovrà inoltre essere rappresentato in ogni lista per una quota non inferiore al 40%. L'ingresso a Palazzo Cesaroni dei candidati presidenti non eletti è previsto solo a quelli collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Per quanto riguarda infine la raccolta delle firme per la presentazione delle candidature si prevede la sottoscrizione delle liste da un numero di cittadini compreso tra un minimo di 1.500 e un massimo di 2.000, ma in sede di prima applicazione, cioè nella prima tornata elettorale dopo l'entrata in vigore della legge, il numero di esse è dimezzato. Abbiamo votato contro una pessima legge elettorale regionale perché si fa carta straccia della democrazia essendo che l'unico obiettivo che aveva il Partito Democratico era quello di scrivere una legge a proprio uso e consumo per avere nella prossima legislatura la maggioranza assoluta dei seggi del Consiglio pur non avvicinandosi alla maggioranza assoluta dei voti. Noi crediamo che invece la proporzionalità del voto degli elettori e delle elettrici vada salvaguardato e che appunto si sia scritta una brutta pagina del regionalismo ombro. Giudizio positivo sull'approvazione della legge da parte della Commissione Statuto. Con l'attuale legge sarebbe stato impossibile per le forze cosiddette minori di maggioranza o di minoranza accedere. Il rischio era con 20 consiglieri regionali di avere solo rappresentanti di due o tre partiti. Questo rischio finora è stato scongiurato, spero che Laura lo confermerà. C'è la disponibilità del gruppo socialista a recuperare una discussione positiva con le opposizioni e anche con gli altri partiti di maggioranza per migliorare ulteriormente la legge che consente a tutti i movimenti di potersi presentare numero contenuto di firme tempi crongrui. Abbiamo terminato i lavori in Commissione presentando una legge che insieme a molte cose buone e positive presenta però un grave profilo di incostituzionalità. È noto che non si può dare un premio di maggioranza se non superando una soglia. La Corte Costituzionale ha voluto questo, ha detto che altrimenti si cade nella illegittimità. Questa legge purtroppo presenta questo dato e io credo che in consiglio bisognerà discutere approfonditamente per non correre il rischio di eleggere con una legge di questo genere un consiglio che poi alla fine risulterebbe, come dire, delegittimato. Si può fare, io spero che si possa fare, darò il mio contributo perché questo si faccia. La proposta licenziata dalla Commissione Statuto, che mi onoro di presiedere, verte su alcuni punti fondamentali. È un modello Umbro, una proposta innovativa. Per la prima volta viene abolito il listino, viene introdotto il collegio unico regionale, viene confermato il turno unico, viene introdotta la preferenza di genere. Si tratta di una proposta sicuramente che ha due obiettivi fondamentali. Il primo, quello di riavvicinare i cittadini alla politica, di rendere trasparente il palazzo, di facilitare la possibilità di rappresentanza territoriale e di dare la possibilità ai singoli consiglieri di rappresentare l'intero territorio regionale. Per noi si chiude oggi una fase, se ne apre un'altra. I lavori in aula, spero, e questo è l'auspicio e l'invito che faccio, possano in qualche modo riavere la possibilità di partecipazione anche dei gruppi che hanno scelto in questa fase di abbandonare i lavori stessi. Il testo approvato in Commissione è una legge fatta su misura per il Partito Democratico e i partiti satelliti. Non tiene conto di quelle che sono le condizioni oggettive della nostra regione. La ritengo antidemocratica perché taglia aree territoriali e aree politico-culturali e di fatto costituisce un percorso che rischia di portare ad un ulteriore allontanamento da parte dei cittadini perso l'interesse istituzionale e politico. Una legge elettorale che è il frutto della paura di perdere è determinata dalla voglia di voler vincere ad ogni costo. Il Partito Democratico non ha affatto metabolizzato le sconfitte delle ultime elezioni amministrative in Umbria dopo anni di governo sempre della stessa parte. Per questo ha voluto preconfezionare, a prescindere da quella che sarebbe stata l'entità e lo scarto della vittoria, con delle posizioni che sono seggi garantiti. Sicuramente è una legge che non distribuisce bene il rapporto democratico, una legge totalmente sbagliata. La legge elettorale che la Commissione ha assortito è un mostro dal punto di vista giuridico sotto vari aspetti. In particolare noi ci appelliamo al Presidente Mattarella che da membro della Corte Costituzionale bocciò il cosiddetto porcellum in quanto il premio di maggioranza del porcellum era assolutamente sproporzionato rispetto ai voti conseguiti. Così è la legge elettorale. Noi scriveremo al Presidente Mattarella e al Governo su questo, nonché faremo un ricorso seriamente motivato. La nostra posizione sulla nuova legge elettorale che è stata approvata questa mattina in Commissione è sempre la stessa e uguale a tutto il centrodestra, cioè una posizione di forte critica perché si sono studiati la legge elettorale su misura per le esigenze del PD e di piccoli cespuglietti intorno, ancora non si è capito quanto, e se la sono poi trasportata nella Commissione del Statuto è approvata in modo blindato. Questo è un atteggiamento allucinante che chiaramente ci vede totalmente in disaccordo. Vedremo in aula, noi faremo degli emendamenti e vedremo se anche lì ci sarà questo atteggiamento, penso che noi daremo vita anche delle proteste clamorose. Dare un giudizio sulla bozza di legge elettorale licenziata dalla pseudo commissione è impossibile perché non è una proposta di legge elettorale ma è un libro dei sogni del PD e dei suoi alleati, suoi socialisti e basta, non tutti gli alleati, riguardo a delle regole che convengono solo a loro. Quindi per quanto ci riguarda la proposta è irricevibile, è unilaterale ed è scorretta, è scorretta perché le regole del gioco si fanno insieme. Queste regole sono quelle scritte unilateralmente dal PD, un libro dei sogni, un elenco di speranze.